Piombaia, siamo a Montalcino, siamo un'azienda con 12 ettari di vigneto gestiti in maniera familiare, siamo io, mio fratello, mia sorella e mio padre e conduciamo la nostra azienda tutta con una filosofia sostenibile che si chiama agricoltura biodinamica, quindi è molto simile al biologico con delle attenzioni maggiori verso il terreno e verso un po' quella che è la biodiversità intorno. Questa è la prima selezione del Brunello, queste sono le vigne più vecchie che abbiamo in azienda, hanno quasi 60 anni di storia alle spalle. Facciamo la selezione, questa è la selezione Don Remo, saranno 7-8 quintali delle uve migliori che abbiamo per creare poi questa selezione che è molto simile a una riserva ma parte proprio come selezione in vino. Andiamo a prendere, facciamo delle piccole pulizie, il grappolo è bellissimo. La siccità con il tipo di approccio che abbiamo al terreno, come potete vedere il terreno viene lasciato con le sue erbe, sono tutte erbe che abbiamo seminato, alcune sono più spontanee, alcune sono seminate, che vanno a creare una pelle protettiva al terreno e quindi aiuta a regolare l'evapotraspirazione, quindi la traspirazione del terreno e quindi l'evaporazione dell'acqua. Purtroppo gli animali e appunto queste gelate iniziali hanno fatto veramente un grandissimo, soprattutto gli animali e ultimamente in alcune vini hanno creato veramente danni veramente importanti. Questo qua inizierà a essere pronto tra sei anni. Oggi siamo su del 2017-2023.